Buongiorno dalla rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite. Il ruolo e compito fondamentale è quello della valorizzazione dell'azione dell'Italia nel settore multilaterale. Tale valorizzazione al giorno d'oggi si svolge non solo con riferimento all'azione del nostro governo, ma in termini più ampi con la valorizzazione del cosiddetto sistema Italia, quindi tutto ciò che istituzioni, enti governativi e non governativi svolgono a sostegno dei grandi quadri di riferimento multilaterale. Ad esempio il settore di sviluppo sostenibile. Quindi il compito del funzionario diplomatico qui è certamente quello di rappresentare il proprio paese nella collaborazione internazionale tipica del settore multilaterale, in cui si innesta naturalmente nel nostro caso e in modo molto significativo il coordinamento del contesto dell'Unione Europea, presso cui cerchiamo sempre di assicurare l'unità rappresentando gli interessi dell'Unione Europea come gruppo di riferimento negoziale. E ovviamente valorizzando quanto l'Italia compie in tutti questi settori e nel significativo ruolo che l'Italia svolge a sostegno delle Nazioni Unite. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!